Hey, salve a tutti, uocikebari, benvenuti in questo nuovissimo video! Io non ci posso credere, ieri sono arrivato a 6.000 iscritti e adesso siamo quasi a 6.100. Ragazzi, sfortunatamente non ho nessuna idea per lo speciale 6.000 iscritti, non penso di farlo. Vabbè ragazzi, ma ho trovato questa cartellina. Qui dentro ci sono alcuni dei miei disegni di Fanated Freddy's, sì, ma quelli vecchi, quelli antichi del 2014-2015 ragazzi. È da anni che non li vedo, li ho trovati solamente due minuti fa in mezzo a uno scaffale abbandonato, vabbè. E iniziamo. Ah, per chi non mi conosce perfettamente, io la maggior parte di questi video dove faccio unboxing o mostro delle cose mie, li faccio con i miei bellissimi guanti neri. Ok, qua mi sa che è già aperto e vediamo un po' i miei disegni di Fanated Freddy's. Ecco qui il primo disegno, Funtime Freddy e Bonbon. Bonbon ragazzi è veramente strana, cioè, questo è Funtime Freddy, non è disegnato proprio benissimo, però mi piace dai, l'ho fatto ripassato col pantone, bello. Ragazzi che cacchio è sta roba? No, no, raga, questo è Freddy, questo è Bonnie, questa è Cicala. Oddio, santo, quanto è brutto è Foxy. Golden Freddy, Balloon Boy, cioè, on animatronic la sua descrizione, ma Balloon Boy sembra l'abitante indemoniato di Animal Crossing. Poi aspetta, aspetta. Marionette. Oh mio Dio, guardate Mangor quanto è brutta. Oh, oh, ragazzi questo è Afton. Questo è il killer, il purple guy. Questo mi sembra che l'ho fatto quando cito FNAF 2 e nessuno sapeva che era il purple guy. E io ho messo il punto di domanda interrogativo sulla faccia. Ma poi raga, come scrivo male? Cioè, cioè, cosa? Oh, oh, oddio. Ragazzi non so se lo leggete. Guardate, guardate bene, Freddy, Bonny, Bonny scritto B-U-N-N-Y. Oh, vattene via per favore. Oh Dio, santo, com'è colorato male. Cioè, questo è Freddy? Questo è, perché Bonny sembra che al posto della faccia c'ha un mattone? Guardate, Balloon Boy, il puppet, Golden Freddy. Ma Foxy, che cos'ha Foxy? Sembra che ha preso delle droghe. Oh Dio. Oh mio Dio, ragazzi, è disegnato veramente male. Oh mio Dio, guardate, Chica, quanto... Cioè, questo sarebbe il cupcake? Questo è Golden Freddy? Questo è Freddy? Perché Bonny c'ha un naso gigante? Cos'è? Che schifo! Ragazzi, veramente sono brutti. Oh mio Dio, gente. Ma come li disegnavo male? Che cavolo. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Bosto! Prendi questo e quest'altro. Vattene via. Ecco il motivo perché tutti noi odiamo Balloon Boy. Perché ride sempre e ci rompe le scatole. Persino Patrick l'odia. Patrick che... combatte e picchia Balloon Boy. Ragazzi, ma... Oh che schifo! Bonny! Oh che schifezza! Non guardiamolo, per favore. Ok, questo cos'è? Una specie di custom knight strana. Con anche i personaggi di One Night at Flamptist. Oh beh, almeno rispetto agli altri è carino. Sono uscito a fare qualcosa di decente, no? Oh mio Dio! Cosa cavolo è sto incubo? Withered. Non aspetta, è scritto... Withered. Withered Old Freddy, Freddy e Toi Freddy. Che brutti, ragazzi. Ragazzi... Questo fa veramente vomitare. C'è... C'è... Guardate Mangol. Guardate... Guardate Mangol. Cosa cavolo c'ha il posto del naso? Sul serio? Balloon Boy, oh mio Dio. Oh mio Dio, il Purple Man. Il Purple Man! Mangol. Mangol, se mi stai sentendo, mi dispiace tanto. Non c'ha neanche naso. Cosa... Non è neanche Mangol questa. Ma perché il suo cupcake sembra un budino di cioccolato? Ragazzi, questi disegni sono veramente terrificanti. È il bello che li ho disegnati io. Oh mio Dio, santo. Cosa cacchio è? Cioè, questo è Withered Chica? Il Purple Guy? Questo è Mangol? Questo è Shadow Bonnie e Shadow... Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi. Veramente... Cioè... Ok, chiunque disegna come ci riesce. Ma sono migliorato moltissimo rispetto a questa robaccia. Poi alcuni di voi mi avete scritto nei commenti del mio video dove disegno gli animatronics che... Eh, ma io non sono molto bravo. Ragazzi, l'importante è impegnarsi. Ma qua veramente di impegno non ce n'è. Questo è il secondo episodio. Balloon Boy contro tutti viene picchiato da Freddy. Stessa roba. Oh mio Dio, santo. Ma no, guarda. Potevi anche ricalcare un po' di più. Non si vede una cacca di niente. Oh, che cavolo è? Che cos'è? Almeno qua... Ragazzi, almeno Balloon Boy è fatto leggermente bene. Ma gli altri no. Questo, ragazzi, è Freddy. Cioè, Freddy che sembra più Muppets. E d'altra parte c'è la sua anima. C'è la versione... C'è il bambino, boh. Finalmente Freddy's 2 e Finalmente Freddy's 3. Oh, che cacchio è? Oh! Questo... Questo non è brutto. Let's play. Guarda... Oh, bello come ho fatto Springtrap. Finalmente un bel disegno. Ah, ora sì che si ragiona, ragazzi. Golden Freddy, Foxy e Bonnie, Freddy e Chica neanche li ho colorati. Bello. Questo mi piace. Oh, ora sì che va bene, ragazzi. Bene, bene, bene. I WeTread sono stati colorati perfettamente. Guarda, guarda. Veramente ottimo. Mi piace. Ok, questo qua me lo ricordo, ragazzi. I Toys e i WeTread. E se non erro di questo, l'ho anche stampato e poi ho anche la maglietta con questo disegno. Bello, bello, bello. Questo mi piace. Devo dire che è veramente figo questo. Soprattutto WeTreadBonnie mi piace come l'ho fatto. WeTreadGoldenFreddy ha una testa enorme e WeTreadSica sembra depressa tantissimo. FuntinFreddy e BonBonnie mi piace di più rispetto a quell'altro. E concludiamo con il perfetto disegno di Balloon Boy. Hello. Scritto perso anche male. FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, FNAF World e poi Ultimate Custom Night, VR, AR, eccetera. La maggior parte sono del 2015, 2014, 2016 credo. Ma tra tutti quanti questi devo ammettere che penso che questo sia il mio preferito. Non lo so, mi piace come l'ho fatto. Non è disegnato benissimo. Poi Toy Chica qua è proprio sporca un pochino. E basta. Questo è tutto ragazzi per la mia collezione di disegni strani di FNAF. Boh, se troverò un'altra cartella con altre robe dentro vi farò vedere altri disegni di FNAF. E ciao ciao. Bunni. What the fuck? 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 Grazie a tutti.